Ciao a tutti, oggi andiamo in questo bellissimo negozio con tantissime cose particolari. Il negozio in questione penso si chiami Odd Store o qualcosa del genere. E nulla, come vedete ha tantissime cose particolari come queste lattine di Dragon Ball o queste dei Pokémon che mi piacciono ovviamente tantissimo. Non ha solo bevande ma ha anche tante cose da mangiare, sia dolci che salate. E sono veramente particolari e molto molto colorate e belle, interessanti. E niente, fatemi sapere se voi ci siete già stati. Ciao, alla prossima! Ciao a tutti! Grazie.